Buongiorno, 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 mi contavano i tuoi e un giorno mi solleva su con il volo, che lo vedeva dopo, se lo hai sfreolato, lo hai bagnato con le aghe, non è di fa, e allora sei là dal pronto soccorso, dall'ospedale, no? E lì mi hanno detto che poteva stare che fosse un tumore tal di arco che sburtava il gnarf dal volo. Oddio, la mia vita si è sversata di un momento che l'altro, e ho tirato le somme di tutta la mia vita. Insomma, o sei stato molto fortunato perché mi sono sposato, o hai avuto figli, o hai avuto nevoci, ho chiesto al Signore. Beh, ho poi concluso che hai fatto una buona vita. Insomma, con tutti gli esami che ho fatto lì, lo hanno concluduto noi. Dopo due, tre, sette mani, plan plan che il volo è tornato a questo. Però, a me diceva Tonin, però ogni buonore come uomis a me di nasce, ogni giornata per me è un regalo. Buona giornata e buona vita.